Mi lasci parlare, infatti anche in Trump i vari poteri si assommano, è bene che una persona non abbia tutti i poteri in capo a sé, a Berlusconi si assomma anche il potere sull'informazione che può condizionare il modo di pensare delle persone dando anche un'informazione che può favorire una persona, un partito politico piuttosto che un altro. Mi dispiace come è una cosa mi sembra di una tale chiarezza che chi ha già il potere economico sia anche quello politico è totalmente strabordante e poi è talmente importante la formazione del consenso delle persone, la loro consapevolezza civile e culturale che se ha anche il potere di informare questa persona ha tre poteri in capo alla stessa persona, allora non è più una democrazia compiuta. Comi è il suo capo, lo capisco che lei lo difenda, però mi sembra una cosa proprio elementare Watson come diceva Sherlock Holmes. Yes sure, yes we can. Senta su questo guardi, io a differenza di tanti non sono una yes woman, quindi anche durante le campagne elettorali e successivamente quello che non va nel mio partito lo dico apertamente e lo dico anche nelle sedi opportune, magari non sui giornali. E' questo, l'ho detto nelle sedi opportune ed è giusto che rimanga nelle sedi opportune, i panni sporchi si lavano in casa, io ho sempre fatto così. Mi permetta, lei ha mai ricevuto un veto, un divieto per poter andare a Mediaset? Lei ha mai ricevuto il caso di Battista? Non sono mai stato invitato a Mediaset. L'ha mai fatta una richiesta? Magari l'accepteranno, questo non potrebbe essere assolutamente. Non ci tengo particolarmente, ma non mi hanno mai invitato. Ma non devo fare una richiesta. Ma guardi su questo però, mi permetta una riflessione veramente breve. Grillo non mi sembra che abbia problemi economici, anzi, la casaleggia associati non mi sembra che abbia problemi economici. Berlusconi economicamente si è costruito dando anche 50.000 posti di lavoro. Quando Grillo e la casaleggia associati creeranno una ricchezza portando un'attività imprenditoriale vera e propria, per frode fiscale per centinaia di milioni di euro, è stata condannata una condanna vaga. Però quindi non entriamo nel merito di questo perché non si toglie uno per dare l'altro. Posso però concludere? Io ho ascoltato religiosamente il suo, però mi sembra ancora una fissa berlusconiana che Dio grazie a Renzi non ha avuto rispetto ad altri a Bersani e il male peggio è Berlusconi e quindi, mi spiace da lei, da Travaglio e da tutti gli altri, hanno sempre questa fissa su Berlusconi. Se uno addirittura che non è all'interno del Presidente è tutto, se uno non ha addirittura che adesso uno non sia libero di restare in Italia, perché lo decidiamo noi giornalisti mi sembra eccessivo, no? Però non è la testimonianza di tutti gli elettori, bisogna avere la testimonianza di tutti gli elettori, di prescindere dalla parte politica, perché se lo diciamo scendiamo in campo anche noi giornalisti e facciamo la dittatura. Ma ha ragione su questo, ha perfettamente ragione, io sono convinta che nel momento in cui la Mondadori pubblica un libro di Di Battista, più di essere liberali in questo modo, cosa dobbiamo fare? Cioè, cosa deve fare il Presidente Berlusconi? Sperma un momento, poi. Più di invitare Di Maio da solo, Salvini da solo.